Punto 13, carnivale, favorevole, ma con la riformulazione, che le seguenti siano o socio-sanitarie, strutture sanitarie o socio-sanitarie, no e. 9.14, contrario, 9.15, 9.16, contrario, 9.17, contrario, 9.18, contrario, 9.19, contrario, 9.100 della Commissione, favorevole. 9.19, contrario, 9.20, contrario, 9.21, contrario, 9.22, contrario, 9.23, contrario, 9.24, favorevole con riformulazione. Il testo verrebbe, la riformulazione verrebbe o, invece che, dell'impresa di assicurazione. Va bene, grazie. 9.25, favorevole con riformulazione o socio-sanitaria, 9.26, contrario. Grazie. Onorevole Colletti, prego. Alternativo, favorevole. 9.2, mi rimetto all'aula. 9.3, favorevole. 9.4, favorevole. 9.5, favorevole. 9.6, contrario. 9.7, favorevole. 9.8, contrario. 9.9, 9.10, favorevole. 9.11, contrario. 9.12, contrario. 9.13, favorevole. 9.14, favorevole. 9.15, 9.16, favorevole. 9.17, mi rimetto all'aula. 9.18, contrario. 9.19, mi rimetto all'aula. 9.100, della Commissione, in mezzo. 9.20, contrario. Scusi, ho perso. 9.19, Calabro. Mi rimetto all'aula. Ok. 9.20, contrario. 9.21, mi rimetto all'aula. 9.22, mi rimetto all'aula. 9.23, contrario. 9.24, mi rimetto all'aula. 9.25, favorevole. 9.26, mi rimetto all'aula. Grazie. Governo. I pareri del Governo sono favorevoli, ovviamente con le stesse riformulazioni del relatore di maggioranza. Grazie. Ok, grazie. Conforme al relatore di maggioranza. Bene, passiamo ai voti. Articolo 9, testo alternativo del relatore di minoranza, parere contrario, Commissione e Governo, favorevole del relatore di minoranza. È aperta la votazione. Ci siamo? Savino, Sandra. Gianmanco, Molea che è in arrivo, Civati. Grazie. Grazie.